E iniziamo questa nuova rubrica, l'intervista doppia. Nome? Blu, celeste. Età? 15, 16. Il vostro ruolo? Infortunata, play guardia. Play, Maria. La vostra città di origine? Pescara, Milano. Raccontami un tuo difetto e un tuo prezzo. Difetto, pregio, testarda. Difetto, panno troppo. Mi è proprio un pregio. Il mio pregio è testarda. Il mio pregio è testarda. Un difetto e un pregio della tua amica? Difetto, dormi troppo. Io riposo. Il pregio? Ah, il pre non ne ha. Non è proprio le risposte. Vabbè, il suo pregio è che è sempre allegra. Il suo pregio è che è sempre allegra. Il difetto è che rimanda troppo le cose. Giocatore o giocatrice a cui ti ispiri? Jessica Milani. Alessandra Orsini. Alessandra. Stinguiata. La domanda classica è il tuo sport preferito? Basket. Il tuo idolo o la tua idola in discusso? O sì, sempre Alessandra. Il tuo coach preferito? Il mio è il grego ovviamente. Maslarinos. Jessica Milani. Dì qualcosa di cattivo a Jessica. Ma si può sapere le parolacce? No. Ah, no. Ah, no. Entro. Non puoi dirmi cosa dire? Il difetto è un pregio di coach Maslarinos. Io ce l'ho. Va, vai a scuola. Pregio. Balla bene. Canta bene. Fa ridere. Fa ridere. E il difetto? Il difetto non ne ha ovviamente. Non ne ha. Non ne ha. E' un pregio e un difetto di coach. Federica Di Pace. Difetti da credo. Niente difetti, pregi e brava nel suo lavoro. E' un gran pregio. La più antipatica della squadra? Jessica Milani. Alessandra. La più simpatica della squadra? Alessandra. Jessica Milani. Che inviteresti a cena fuori a cena romantica? Che significa per una cena romantica? Alessandra sì. Giovanni sta terzo. Quanto cambiare la risposta? Luca. Augura alla tua compagna un futuro roseo nel basket. Buona fortuna. Riprenditi presto e torna a giocare. Almeno posso insultarti come sei grande. E adesso noi abbiamo terminato con questa intervista doppia da fare una cosa importante. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Pb63 e sui nostri social. E sabato? E sabato? Giochiamo. E quindi bisogna invitare. Quindi vi dovete vedere la cosa che ti fate. Diciamo che il 60% possono invitare. Chi prima arriva è... Meglio alloggia. Il vostro saluto finale. Grazie a Blu e grazie a Cereste. Ehi! E' tieni e... Anche a memercia. Perciva benissimo.